Ciao ragazzi, oggi vi porto in Stiria, quindi siamo nel sud dell'Austria, circa un tre orette da Vienna, per intenderci a est confina con l'Ungheria, a sud con la Slovenia, ed è una regione, una denominazione dell'Austria. La cantina, prima che mi dimentichi, è la cantina shower, abbiamo naturalmente un pino bianco annato 2019, 12 gradi e mezzo. La particolarità di questo pino bianco è che i vigneti su cui appunto affondano le radici per la produzione delle uve di questo pino bianco provengono da due particelle molto differenti, che si differenziano proprio dal suolo. Adesso la pronuncia sarà terribile, ma sand, sabbia, e schiefer, ardesia. So il significato, la pronuncia non mi viene molto bene. Quindi andiamo a cogliere diverse particolarità dal terreno. Terreno sabbioso avremo un colore molto più intenso, con l'ardese avremo sicuramente una sapidità particolare. Cos'altro posso dirvi? Sì, beh, che l'azienda ha delle origini antiche, nasce a metà del 1700, 1757 se non erro, e adesso è condotta da due fratelli di cui uno mi ricorda il nome, Stefan, e l'altro me lo sono scritta, Bernard. Bernard e Stefan, che producono non solo il pino bianco, ma anche Riesling e un Sauvignon, sempre regionale, che ho assaggiato ancora un po' di tempo fa, non so se vi ricordate il video. Comunque, come molte altre cantine fanno appunto nella zona dell'Astiria, diciamo che dal punto di vista qualitativo assomiglia alla Borgogna, nel senso che si dà molta importanza al luogo di produzione. Per esempio, questo qui è un pino bianco regionale, poi c'è una appellazione, diciamo, comunale, e poi si va al cru, proprio perché quella determinata zona, quella particella, è particolarmente vocata. Per esempio, ecco. La produzione è molto ristretta in Stiria, ci sono all'incirca 4500 ettari vitati e 3000 produttori, quindi potete capire che ogni cantina è molto piccola e che va sicuramente a puntare sulla qualità. Inoltre, un'altra particolarità è che, di media, le pendenze dove appunto si trovano i vigneti, è una zona principalmente collinare che arriva, le colline arrivano a 550 metri sul livello del mare, forse anche 600, e quindi potete capire che le pendenze, le medie, sono al 26%, sono delle pendenze davvero anche difficili da lavorare. Come clima, abbiamo un clima continentale, comunque ben temperato, con delle buone, una buona umidità, ci sono appunto le montagne che vanno a, per fortuna, a proteggere dalle interperie che arriverebbero da nord-nord-ovest, e allo stesso tempo hanno una buona influenza, solitamente di correnti calde, dalla parte sud, dall'Adriatico proprio. E quindi vi ho fatto un quadro abbastanza generale, direi, della Stiria. E in più ho un'altra particolarità, lo dico proprio perché c'è questa connessione tra i terreni della Stiria e i terreni proprio del Friuli Venezia Giulia, perché devo dire che principalmente sono dei terreni marnosi, con delle tracce di calcare, che ricordano molto la ponca, diciamo, dell'alto Friuli. Quindi un misto tra marne e arenarie. Poi naturalmente ci sono delle varianti, zone più calcare, zone più sabbiose, come in questo senso, zona in cui troviamo appunto l'ardesia e anche il scisto, quindi ci sono delle differenzazioni, ma principalmente mi sono anche scritta perché noi la chiamiamo ponca e loro invece la chiamano opoc, nel dialetto locale, quindi c'è anche un'assonanza, diciamo, no? E quindi credo di avervi detto abbastanza informazioni al riguardo. Adesso andiamo a dare un'occhiata al vino. Ha un bel colore giallo paglierino, vivace, abbastanza intenso. Settate che... Così lo vedete meglio. Eccolo qua. Vedete che ha dei bei riflessi. E annusiamo. Sicuramente ha un'impronta di frutta tropicale, frutta tropicale, mela golden, pesca, molto fruttato. E anche dà un'idea di qualcosa di avvolgente, che poi magari andremo a ritrovare al palato. Un qualcosa di più dolce, sicuramente dei fiori gialli, una rosa gialla. Anche un filo di miele, per intenderci. Delle scorze di agrumi. C'è molto improntato su fiori e frutta. Andiamo ad assaggiarlo. Un sorso snello. Avvolgente. Sorretto da una buona freschezza. Con l'alcol integrato. Ma soprattutto presenta, a mio parere, una grande mineralità, che esce soprattutto nel finale. Fa, scusatemi, ovviamente adesso annusandolo, ci ho sentito leggermente l'apporto del legno, ma fa dieci mesi di affinamento in botti grandi. Quindi sicuramente non si va a sentire il legno. Però al naso c'è questa nota un po' più dolce, leggerissima, leggerissima di tabacco. Qualcosa di morbido, così. Che mi ha ricordato il fatto, che devo dirvi, che fa un affinamento, appunto, di dieci mesi in legno grande. Naturalmente il pino bianco non si presta a barrico, a legni piccoli, o a botti piccoli, scusate, perché è un vigneto, è un vitigno molto delicato. Quindi si andrebbe troppo a coprire la sua identità, il suo lato varietale. Però c'è qualcosa di morbido, che è anche l'avvolgenza, il palato, la buona morbidezza, e quindi l'equilibrio che si va a creare, sono dovuti probabilmente dall'utilizzo del legno. Quindi secco, mediamente caldo, buona morbidezza, buona freschezza, e soprattutto una sapidità finale incredibile. Molto probabilmente ha portato proprio dall'artesia. Come abbinamenti andrei su qualcosa di non troppo volumioso. Penso, per esempio, dei tagliolini con zucchine e gamberi, oppure delle conchiglie. Sicuramente con le conchiglie potrebbe starci bene. Poi punterei anche su delle verdure. Anche delle zuppe di verdure potrebbe essere interessante. Dei risotti a base di pesce. Mi raccomando, non cose troppo zigogolate. Delle frittate, anche secondo me con l'uovo potrebbe starci bene. Quindi frittate, verdure, minestre. Vellutate, in questo periodo, vellutate di zucchine, vellutate di piselli. Magari con l'aggiunta di un po' di formaggio fresco, un cucchiaio di strachino morbido dentro. Potrebbe essere davvero un'ottima scelta. Un'insalata di folpo con le patate, ma anche un'insalata di pollo con le patate. Direi che potrebbe essere un buon compagno. Bene, saluti da me, dal Pino Bianco. Cin cin. E alla prossima. Grazie. Grazie. Grazie.